E calcio di rigore, Giorca F Tiro e gol, Inter in vantaggio al 31esimo del primo tempo 1-0 per i Nerazzurri Ma proprio dal tiro d'angolo nasce il gol Colpo di testa di Zamorano, splendido in anticipo su tutti E 2-0 per l'Inter, vedete l'esultanza del Cileno Va sul fondo, sulla sinistra, il traversone colpo di testa di Gantz Palla che sfugge a Rossi ed è il 3-0 Rivediamo il colpo di testa di Gantz